Loro hanno studiato un campione di 2000 adolescenti, cominciando all'età di 11 anni, e questo campione è stato seguito per 20 anni, è stato rivalutato periodicamente. Loro hanno visto che gran parte di queste condizioni di malessere psicologico, con il passare del tempo scomparivano e non è ancora chiaro quali siano i fattori maturazionali dalla possibilità di incontrare un nuovo partner all'inizio di un'attività lavorativa, alla fine della scuola, a lasciare la famiglia, eccetera, che contribuiscono in maniera significativa a questa evoluzione spontanea verso una condizione di benessere. Peraltro, va anche detto, come il professor Patton ha sottolineato, vi è anche una quota di adolescenti che invece non guariscono ed evolvono verso una condizione di malattia in età adulta. Quello che spaventa è che ci sono adolescenti in difficoltà che vengono lasciati al loro destino. Dal convegno organizzato proprio a San Servolo, nell'isola dove fino a 200 anni fa venivano segregati i malati di mente, parte un appello. Mettere al primo posto nell'agenda della salute mentale i bisogni di salute mentale della fascia di età 15-25 anni, che è quella in cui insorge sino al 75% dei disturbi mentali. Per l'Istituto Fatebene Fratelli, promotore dell'incontro, è stato un ritorno a Venezia. È bello essere qui dopo 110 anni, trovarsi all'isola di San Servolo, dove erano ricoverati i malati che assistavamo quel tempo. Oggi torniamo con un congresso per parlare sempre di malati, di malati giovani, di venire del mondo, ma anche di un mondo che sia in salute.